Patrimonio culturale e materiale italiano. I luoghi di culto. Assisi, la Basilica di San Francesco e altri siti francescani sono stati inseriti nel Patrimonio Culturale e Materiale Unesco nel 2000 a Cairns, in Australia, durante i lavori della 24esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale. I criteri di iscrizione sono Criterio primo. Assisi rappresenta un insieme di capolavori del genio creativo umano, come la Basilica di San Francesco, riferimento fondamentale per la storia dell'arte in Europa e nel mondo. Criterio secondo. La diffusione del messaggio artistico e spirituale dell'ordine francescano ha contribuito in maniera significativa allo sviluppo dell'arte e dell'architettura nel mondo. Criterio terzo. Assisi è un esempio unico di continuità di una città-santuario, nel suo ambiente naturale, dalle sue origini umbro-romane e medievali, fino ai giorni nostri, rappresentato dal paesaggio culturale, dagli insiemi religiosi, dai sistemi di comunicazione e da un tradizionale uso del territorio. Criterio quarto. La Basilica di San Francesco è un eccezionale esempio di un tipo di complesso architettonico, che ha influenzato in maniera significativa lo sviluppo dell'arte e dell'architettura stessa. Criterio sesto. Assisi, luogo di nascita dell'ordine francescano, è stata strettamente associata fin dal Medioevo al culto e alla diffusione dello stesso movimento francescano nel mondo, trasmettendo un messaggio universale di pace e di tolleranza. Le origini di Assisi si perdono nell'antichità. Alcuni reperti pongono il luogo in relazione con la popolazione degli Umbri, e le prime tracce di insediamento stabile sono riferibili al VI secolo a.C. In epoca romana, il centro assume un chiaro assetto urbanistico, anche in funzione della sua elezione a municipio, avvenuto nell'89 a.C. Vengono innalzati in questo periodo all'interno delle mura perimetrali i monumenti più significativi sia civili che di culto. Sono giunte a noi porzioni notevoli di edifici, per cui il Tempio di Minerva, il Foro Romano, l'Anfiteatro e una lunga serie di iscrizioni e reperti, oggi conservate nel Museo del Foro Romano. Con il tramontare dell'Impero, anch'essi si inizia il suo declino, subendo assedi da parte dei Goti e Longobardi. Dopo il Mille, anche grazie alla spinta di un rinnovato vigore dei traffici commerciali e alla conseguente ripresa di ogni attività, Assisi si arricchisce di nuovi palazzi e luoghi di culto. Nel XII secolo si costituisce come comune e un periodo di rinascita, soprattutto religiosa, in virtù della presenza di San Francesco, nato qui nel 1182, che fondò un ordine mendicante e si fece interprete di un messaggio universale di fratellanza e amore. Già alle fine del 200, Assisi è annoverata tra i quattro fondamentali centri cristiani nel mondo, dopo Gerusalemme, Roma e Compostela. Nel 1986 Assisi è stata scelta come città simbolo della pace in occasione della giornata mondiale di preghiera per la pace, indetta dal Papa Giovanni Paolo II. Da allora queste città e i suoi luoghi sono universalmente viste alla luce della forte vocazione francescana e dei valori umani e universali di cui San Francesco era ed è simbolo. Nel 2011 lo stemma e il gonfalone della città recono oltre ai tradizionali simboli araldici dalla croce et leone, la croce ed il leone, che rappresentano l'amore e la gloria, anche la citazione Serafica Civitas, che è andata a sostituire la precedente Pax et Bonum. Il nuovo motto è stato dessunto dai sigilli municipali nell'archivio storico, in un timbro datato al XVIII secolo, ed esprime l'incidibilità dei valori del francescanessimo con i valori civici e le istituzioni politiche della città. Nel paesaggio d'Assisi, accanto agli elementi naturali come il Monte Subasio, i pendii erbosi e i boschi, trovano posto gli interventi dell'opera umana, dagli eremi che definiscono una geografia sacra fino allo splendore degli affreschi nelle chiese della città. Il sito comprende i seguenti beni La Basilica di San Francesco sorge oggi là dove il santo aveva scelto di essere sepolto, nella zona di Assisi che nel Medioevo era nota come Cola dell'Inferno, ovvero il luogo che in quell'epoca era destinato alle esecuzioni pubbliche. Il cantiere della Basilica di San Francesco fu aperto nel 1228 per volontà di Papa Gregorio IX e grazie all'attività di Frate Elia, vicario dell'ordine scelto dallo stesso San Francesco. L'aspetto attuale della Basilica di San Francesco è il risultato di diversi interventi, fra cui la realizzazione del campanile con cuspidi nel 1239, la costruzione di un portico davanti alla Basilica Inferiore nel 400 e di un atrio in pietra per il portale della Basilica Inferiore nel 1445, l'eliminazione dalle cuspidi dal campanile nel 1518. Il complesso è costituito da due chiese sovrapposte. La Basilica Superiore ha un aspetto gotico, luminoso e slanciato. La Basilica Inferiore, a cui si accede attraverso un portale gotico, è bassa ed austera. All'interno delle Basiliche sono presenti cicli pittorici di grandissimo valore artistico, molti dei quali realizzati dai più grandi maestri del XIII e degli inizi del XIV secolo, e il più interessante ciclo di vetrate e storiate che ci sia in Italia. La Madonna in trono di Cimavue, il ciclo della passione di Pietro Lorenzetti. La capeta della Maddalena, con affreschi di Giotto e collaboratori, sono alcuni dei capolavori della Basilica Inferiore. All'interno della Basilica Superiore va il ciclo delle storie di San Francesco, lavoro progettato e realizzato a più mani dal giovane Giotto della sua scuola. Nel 1818, in seguito agli scavi sotto l'altare, furono riportate alla luce la spoglia del santo. Due anni più tardi, per volontà del Papa Pio IX, fu avviata la costruzione della cripta, in stile neoclassico, nella Basilica Inferiore. Annesso le due basiliche e il sacro convento, e tutto il complesso, il palazzo papale, le piazze e le selve attorno, sono circondate da mure protettive e difensive. La chiesa di Santa Chiara, ricostruita a metà del XIII secolo, e dedicata a Santa Chiara, è il luogo di culto che era precedentemente intitolato San Giorgio, per via dalla posizione proprio subito fuori l'antica porta di San Giorgio. Il piazzale di San Giorgio fu il primo spazio pubblico di Francesco e dei suoi frati, quando Chiara, fedele e illuminata collaboratrice di Francesco, morì nel 1253, il suo feretro venne collocato nel sepolcro della chiesa, e una piccola comunità femminile vi si trasferì, ancora prima della costruzione della nuova chiesa. Secondo alcuni studi, la prima fase dei lavori fu guidata dallo stesso maestro della Basilica Superiore di San Francesco in Assisi. Il 3 ottobre del 1260, i resti mortali di Santa Chiara vennero spostati definitivamente sotto l'altare maggiore della chiesa. Nel cuore di un fitto bosco sorge il remo delle carceri, che ai tempi di Francesco era un piccolo oratorio, chiamato dagli Assisani con nome di Sassi di Malo Loco. Francesco lo intitolò a Santa Maria delle Carceri, dal latino carcer, cioè posto appartato e solitario. Questo luogo concretizzava perfettamente il significato della contemplazione beata, dalla meditazione spirituale, dalla possibilità di avvicinarsi a Dio tramite il contatto diretto con il creato. La remo è oggi un convento in cima a una roccia, circondata dai lecci, costruito a partire dal XIV secolo sopra una grotta dove Francesco era solito riposare e meditare. Dopo una fase iniziale, in cui sono state costruite dai frati le prime povere abitazioni, all'inizio del XV secolo sono stati edificati la chiesa, dedicata all'Annunciazione del Signore, il Refettorio, il Piccolo Coro e alcune celette abitative. Qui sono ancora leggibili le due anime del Medioevo, una civile, cittadina, atta a condividere, a predicare e a stare vicini al popolo, l'altra, perfezionata con la vita eremitica, fatta di preghiera e vita fraterna. Il Santuario di San Damiano è un complesso monastico, sorto intorno al X secolo, sulle rovine di un'area di culto romana. Si trova in un luogo di grande silenzio e suggestione. Le fonti narrano che Francesco vi si ricò e venne ispirato dal sublime crocifisso piezantino. «Va, Francesco, ripara la mia casa», è l'espressione che un contemporaneo del santo scrisse per descrivere l'esperienza mistica da lui avuta. Francesco decise così di restaurare gli edifici che versavano in uno stato di abbandono. Il Santuario Francescano di Rivotorto è considerato uno delle culo della Fraternità Francescana, perché custodisce al suo interno il Sacro Tugurio, dove Francesco aveva posto la prima povera dimora di sé dei suoi fratelli. La Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli, in Porziuncola, è una chiesa imponente, sorta per proteggere la chiesetta che fu culo del Francescanessimo, chiamata Porziuncola, il luogo sacro dove San Francesco morì. Le fonti francescane narrano che proprio alla Porziuncola il santo fondò l'Ordine dei Frati Minori, accolse i primi fratelli e fondò l'Ordine delle Clarisse nel 1211. Lo splendido e armonico palazzo del Capitano del Perdono in Assisi sorge nello spazio di pertenenza della Basilica di Santa Maria degli Angeli. Dal XII secolo, ogni 2 agosto, una moltitudine di pellegrini sostava attorno alla Porziuncola per ottenere il privilegio del perdono, ottenuto da San Francesco nel luogo in cui, dopo il vagabondare dei primi anni, scelse di fondare l'Ordine dei Frati Minori. Nel 300, assumendo la Grande Sagra del Perdono, la consistenza e la forma di una vera fiera, fu necessario provvedere alla vigilanza mediante una magistratura speciale che faceva capo al Capitano del Perdono. Originaria dal X secolo, ad opera di Benedettini, la chiesa e abbazie di San Pietro venne ultimata nel 200. La sua facciata si distingue per la forma rettangolare in cui si aprono tre grandi rosoni. La piazza del Comune, ubicata nel logo dove si trovava l'antico foro d'età romana, è considerata uno splendido esempio di piazza medioevale. Su di essa insiste il Tempio di Minerva, risalente al I secolo a.C., riconvertito poi in chiesa cristiana di Santa Maria sopra Minerva. Nella piazza si celebra ogni anno il Calendimaggio, rievocazione storica della tradizione pagana medioevale per festeggiare la primavera. La chiesa nuova è stata costruita nel 1615, nel logo ritenuto la casa natale di San Francesco, quindi tappa di pellegrinaggio dei fedeli. La chiesa di Santa Maria Maggiore, edificata nel XII secolo, su un precedente santuario, è il logo dove Francesco deposa le sue vesti, rinunciando ai beni paterni. La cattedrale di San Rufino presenta una facciata in stile romanico, con tre rosoni inestati in una struttura lineare ed elegante. L'attuale chiesa venne edificata nel 1140, su precedenti edifici di culto. L'interno presenta interventi rinascimentali. Si dice che il fronte battessimale originale, ancora costruito nella cattedrale, sia quello in cui vennero battezzati San Francesco e Santa Chiara. La Rocca Maggiore venne riedificata sopra una preesistente fortificazione nel cardinale Albornoz, nel 1365. Si erge sulla sommità di un colle, ritenuto strategico per la difesa e il controllo della città. Dalla Rocca Maggiore si gode una vista panoramica sull'intera valle Umbra. La Rocca Minore si trova sull'altura a destra della Rocca Maggiore, ed è nota con il nome di Rocchicciolo. Una Moralia collega le due rocce di Assisi, e sembra che tra di esse un tempo vi fosse anche un camminamento sotterraneo segreto. Francesco d'Assisi visse la sua gioventù dai figli della borghesia locale, tra nobili svaghi e imprese belliche. Partecipò alla guerra contro Perugia, durante la quale aveva esperienza anche della prigionia, e progettò di unirsi ai crociati. All'inizio del viaggio verso la Terra Santa, nel 1205, quando si trovava ancora a Spoleto, un sogno cambiò la sua vita. Questo episodio appartiene alla serie della Legenda Maior di San Francesco. La notte seguente, essendosi il Beato Francesco assopito, vide un palazzo splendido e grande, con armi guerresche freggiate del segno della croce di Cristo, e chiedendo di chi fossero, da una voce celeste gli fu risposto che esse sarebbero diventate tutte sue e dei suoi soldati. Francesco vide nella fede cristiana un evento globale, comprensivo di pensiero e azione, volto all'aiuto, alla pacificazione, alla fratellanza tra gli uomini e all'armonia di questi con l'intero creato. Operò dapprima come restauratore di alcune chiese abbandonate nel territorio di Assisi, e poi, a partire dal 1207, si svestì definitivamente dalla vita precedente per indossare nel 1208 l'abito dei minimi, assomiglianza dei contagini dell'Assisano. Nel 1209, con l'approvazione del Papa, ebbe iniso il primo ordine dei frati minori, la prima pietra sulla quale si fonderà la missione francescana. Fu dichiarato santo due anni dopo la morte, avvenuto nel 1226. Nel 1939, Papa Pio XII la definì, insieme a Santa Caterina da Siena, patrono d'Italia. Nel 1979, Giovanni Paolo II lo proclamò celeste patrono dei cultori di ecologia, riconoscendo che egli ha venerato la natura come un dono meraviglioso, dato da Dio e il genere umano. San Francesco, per lo spessore di molti dei suoi testi, tra cui il celeberimo cantico delle creature, viene anche considerato un importante rappresentante della tradizione letteraria italiana. I cardini teologici della sua predicazione sono essenziali, la fraternità universale tra tutte le creature, la minorità come totale obbedienza e servitù nei confronti del Signore e in particolare verso gli umili, la povertà come emancipazione interiore e condizione per l'accoglienza e la condivisione. Santa Chiara, importante religiosa italiana, collaborò con San Francesco e fu la fondatrice dell'ordine monastico femminile delle Clarisse. Per nascita appartenente all'alta nobiltà cittadina, Chiara dimostrò grande forza d'animo scegliendo di sfuggire al matrimonio predisposto e alla vita agiata cui era destinata. Scelse di seguire il messaggio di Francesco, abbracciando la povertà e divenendo prima abbedessa delle Clarisse. Assisi rappresenta uno dei centri spirituali più visitati al mondo e il luogo deputato ad ospitare le principali iniziative dedicate alla pace e al dialogo interreligioso. Grazie a tutti.